Sono circa 40 dipendenti ad oggi presenti all'interno dell'Associazione Regionale Elevatori Ara d'Abruzzo, ma che da quasi 24 mesi non percepiscono lo stipendio pieno, ma solo una piccola parte. Per questo motivo, per fare il punto sulla difficile situazione, si è svolto un incontro a Tenamo alla presenza del consigliere regionale nonché vice capogruppo del Partito Democratico, Dino Pepe, e i vertici dell'Associazione. Sì, per seguire questa vicenda molto triste, una disattenzione molto forte da parte della Giunta Regionale, in maniera particolare dell'assessore imprudente, c'è poca vicinanza ma soprattutto un ridotto sostegno finanziario per l'Associazione Regionale Elevatori. Ovviamente è una situazione che si trascina da molto tempo, ma la nuova Giunta Regionale aveva promesso una soluzione rapida e tempestiva per venire incontro alle esigenze sia dei dipendenti dell'Ara e sia soprattutto del settore zootecnico. A distanza di tre anni di gestione di Marsilio e imprudente, la situazione addirittura è peggiorata, poiché siamo di fronte a oltre due anni di stipendi arretrati, una riduzione degli stanziamenti in bilancio regionale e soprattutto una disattenzione verso il settore zootecnico che, per quanto riguarda il Covid, non ha ricevuto nessun indennizzo e nessun ristoro e da questo punto di vista riscontriamo una riduzione, una chiusura di tanti allevamenti nella nostra regione. L'Ara fa assistenza tecnica, lo tiene i libri genealogici e è un'associazione che è stata sempre molto vicina al mondo zootecnico, ovviamente sostenuta con forza dalla regione Abruzzo.